Sbucano dalle siepi a caccia di cibo e coccole, corrono, saltano come impazziti. Sono la gioia dei più piccoli che li rincorrono per dargli una foglia di lattuga. Loro, amati, pelosi, quadrupedi, si fanno avvicinare, ma a basso movimento di troppo tornano a nascondersi nelle loro tane. Sicuramente è una cosa molto curiosa, forse che avvicina pure le persone. Infatti ha portato pure una mela, magari dopo io ne vado a dare un pezzettino. I volontari della situazione Made in Bunny calcolano che sono oltre 400 i conigli che scorazzano nel parco della Caffarella. In realtà sono più di un migliaio di esemplari di coniglietti sparsi tra le valli e le colline, a ridosso della più antica. Qui siamo in presenza di conigli abbandonati, quindi comprati nei negozi e poi abbandonati nel parco con la convinzione che liberarlo in natura sia la cosa migliore per lui. Niente di più sbagliato, perché qui invece hanno molte difficoltà. Predatori, comportamenti errati dei cittadini, alimentazione sbagliata, perché molti nel fare bene gli danno carote, patate, pane e cose che non vanno date. C'è magari il cane sciolto perché c'è chi vuole tenere il cane libero dal guinzaglio. La notte ci sono i predatori ed i pericoli, quindi stiamo parlando, dobbiamo vederli come dei cani randaggi. Ecco, sono animali randaggi. Eh sì, la colonia di conigli non abita facile, sono predati dai cani, i balordi li catturano per cuocerli in padella. Non ci sono cartelli che indicano che cosa offrirgli da mangiare. Ogni tanto gli veniamo a dare da mangiare, ma non spesso, abitiamo dall'altra parte della città. Mangiare cosa? Finocchi. C'è chi dà da mangiare le patatine ai conigli? I conigli anche portano la pasta, portano alimenti che non sono indicati per questi animali. Dovrebbero prima consultare qualche veterinario per vedere cosa fa bene a questi animali che vivono in libertà e non dare fastidio a loro perché noi ne abbiamo trovati pure qualcuno morto. Vietati pane, patate, sono golosi invece di radicchio e sedano. I volontari di Medimbanni hanno presentato un progetto alla regione Lazio, chiedono di tutelarli recintandoli in una zona protetta come già accade a Forlì da 2020 per poterli ammirare in santa pace, vaccinarli, sterilizzarli, prenderli in adozione piuttosto che acquistarli in un negozio. Andrebbero tutelati perché comunque non tutte le persone hanno delle buone intenzioni che vengono al parco. Ho visto persone che lasciano liberi cani, che vanno a inseguire poi i conigli e niente, non si sa mai cosa può succedere.